I polso, 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 apre e chiude, apre e chiude, matite e caccia della città, grazie per la visione del video, grazie per la visione del video. Apro quando entro, chiudo col dai, apro, chiudo, apro, chiudo, facciamo ancora questo per colpiamo un attimo prima di appoggiare il piede, vai, ora mi devi fare in modo di deviare da questa parte e poi taglia, il passo dell'acqua lo fai se l'arma è lunga naturalmente e subito, esatto, mi puoi passare anche un pochino più, subito, perfetto, fermo lì, mentre arrivo tu colpisci ed esci, ancora fammelo vedere in questo colpisci ed esci, se facessi solo il colpo come si fa con la mano muda, la mano muda facciamo così, però qui nei colpi ti taglia la gamba esatto, quindi ti tocca fare così e così, ti tocca uscire da lì, quindi colpisci ed esci perfetto, vai, frecciata, difenditi e attacca, occhio che ti attacco qui, esatto, taglia subito, proprio così e qui cerco subito il buco per tagliarlo, ancora faccia basso, qui tutti e due ragazzi potremmo fare, è il primo che lo fa, è il primo che lo fa, questo comunque ti difende, la sua parte la fa, la sua sporca parte fai tu, uno, esatto, uno, proprio così grazie